Che realtà non mente La via della conoscenza vocedellacuiete.vagliano.gmail.com attraverso Attilio e Franca Una voce Proviamo a riassumere il nostro contenuto in cui sono presenti tre tematiche La prima riguarda la vita vista con lo sguardo che è stato plasmato dalla disconnessione e dalla scoperta della pausa presente fra un pensiero e l'altro È possibile scoprire la pausa solo quando si riconosce che i pensieri e le emozioni nascono e muoiono cioè sono impermanenti e scorrono attraversando l'uomo La loro disconnessione è determinata dalla pausa e quindi essere consapevoli della disconnessione significa riconoscere la pausa che li separa È possibile che si mostri anche a voi una breve percezione della pausa Tutte le volte che lo strumento retorico del chi guidato da un maestro che è realtà non mente si pone come un cuneo a gettire la vostra mente mettendo in crisi la stretta identificazione che avete con essa Insieme rivisiteremo questi argomenti per farvi acquisire maggiore comprensione di come si possa mostrare la vita agli occhi di chi vive consapevolmente la disconnessione che già agisce in ognuno di voi ma di cui siete inconsapevoli Grazie a tutti Grazie a tutti